In Gonesi dove ero avuto sul baullo di Verda, sul sarcofago, di questa femmina. Poi Dante di Gonesi si spostava in un addomo di Degemo e poi è sempre entrato in un addomo di Degemo. Il Carros Curso non è stato una famiglia a volte? Il Carros Curso è stato in Sardegna e in Gonesi si spostava in Asi, in Spagnoli, però nel luogo dove c'è, c'era il castello di Sant'Ognale. In basso dove c'è ancora un apposento dove c'è una pittura di Spagnola, su 500 o su 600, dove c'è una pittura che ha un apposento in un castello di questa età, perché c'è una pittura di Sparezza. E questa pittura è una pittura che è molto ragazionata in questa parte per l'Ada, però per andare in attesa e per i suoi slangiri. E se hai gusto il corso? Il corso, Vittorio Emanuele II, però, eh? Sempre vero, Piemonti. Beh, tutto nello stesso torri a Rangunisi, per gli scaduti in vicino a Storico. In mezzo a Giosu è andato a Biri, a Savarti Prusaintus. Vieni con me, Giosu. Vieni con me, Giosu. E Tappamostà è una cosa particolare. Hai. Dubisi, Miali. Dessa Grecia? Dessa parte in pizzo non è stata parla o nuda, però se sta allogando questa gripta, questa parte fonduta, è fatta tutto con un arco a cruzera, su stile di questo gotico cadelano, che è stato un povero, sinzillo, chi ha carato questo, chi ha cattato uomo in Francia o in Germania, però a me è fragile. La nostra verità è comunque affascinante, e si conta questa storia del castello di 500 e di 600. E questa perda tra che tramezzare? Questa di un'altra tramezzare, è una perda che si accatta da me, in questo vicino, è facile di lavorare, però come ti puoi esibire, è un uomo che non va a consumare a questo tempo. E certo, questa cosa, come su te terra, si scrive, è caro feroce, è un dato, è violante, è la sanguinare, è il segismo di Milano-Ambruziano, ma anche solo in castello, si tratta di un conto delle fantasie, ma è che non si è finita. Grazie.